Nel nostro TG continua l'attività di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Capitaneria di Porto sui danni causati all'ecosistema marino dalla pesca illegale con metodi non convenzionali. I militari della Guardia Costiera, impegnati in attività di sorveglianza sul litorale della giurisdizione, hanno accertato nuove infrazioni, anche grazie alla capillare presenza sul territorio di una rete integrata di osservatori e di un efficiente sistema di informazioni. Due pescatori di Frodo Pugliesi, intenti ad effettuare pesca illegale di ricci di mare, sono stati sorpresi nelle acque antistanti litorale del comune di Santa Marinella. Le due pattuglie, composte dal personale della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, hanno sequestrato oltre 4.000 echinodermi, che nell'immediatezza sono stati rigettati in mare ancora vivi, mentre due pescatori di Frodo sono state notificate sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro, ai sensi della nuova dormativa in materia di pesca e acquacultura, che ha inesprito le sanzioni anche per la pesca non professionale. Anche Fiumicino, nella lista dei comuni dove si vorrebbe realizzare una centrale a biogas, il comitato di Fiuti Zero alza subito la voce e dice un secco no all'ipotesi di un megaimpianto di biogas a Maccarese. Abbiamo appreso, afferma il portavoce Marcello Gagliacci, che il comune di Fiumicino sembrerebbe aver posto le basi per la realizzazione da parte dell'AMA di un megaimpianto di biogas, con annessa centrale di generazione dell'energia elettrica, dove verrebbe trattata la Forzu, cioè i rifiuti organici di Roma, città dove ancora ad oggi non esiste una raccolta differenziata porta a porta, decente, e che possa garantire un buon livello qualitativo dell'organico. Attenzione, proseguono dal comitato, non è un impianto di compostaggio, come vorrebbero far credere. A consentire la costruzione in piena riserva del litorale di una centrale a biogas, sottraendo altri 16 ettari, ci sembra veramente troppo. I biodigestori sono impianti sporchi, da cui si ricava metano di scarsa qualità e digestato, che altro non è che una poltiglia assolutamente non utilizzabile in agricoltura. Non abbiamo lottato per quasi due anni contro la discarica e l'incineritore a pizzo del prete, concludono dal comitato, per ritrovarci una centrale a biogas a 100.000 tonnellate l'anno a Maccarese, nel cuore del nostro comune. Chiediamo all'amministrazione chiarezza. E l'amministrazione comunale di Santa Marinella si prepara a presentare un progetto che coinvolgerà le associazioni di volontariato dell'intero comprensorio, tendente a stilare un regolamento che consenta di abbattere le barriere architettoniche. Attore principale della proposta è l'assessore ai servizi sociali Marco Degli Esposti. Ci concentreremo a giorni con le associazioni del comprensorio, afferma Degli Esposti, per concretizzare il regolamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche, così come ci impone la legge. Pochi comuni in Italia sono in regola con questo impegno. Noi vogliamo essere d'esempio. Faremo presso una mappatura del territorio comunale, per poi dar seguito agli interventi veri e propri. Inoltre, continua Degli Esposti, abbiamo programmato una serie di interventi di fine mandato relativamente al settore dei servizi sociali che, nonostante le difficoltà economiche di questi anni, non è mai stato trascurato dall'amministrazione comunale. L'Associazione Spazio Libero ha consegnato oggi all'ambulatorio odonto tecnico della AFL di Tarquinia un ablatore per la pulizia dei denti. La consegna è avvenuta alla presenza dell'amministrazione comunale rappresentata dal Vice Sindaco Renato Bacciardi. L'oggetto, acquistato dall'Associazione con i proventi pervenuti dalle varie iniziative che l'organizzazione svolge durante l'anno e del costo di 436 euro, è stato consegnato dal Presidente dell'Associazione Alfonso D'Antonio alla dottoressa Fabiola Cenci. Si è svolta a Montalto la cerimonia di congedo del maresciallo aiutante dei carabinieri Salvatore Bellino. All'iniziativa era presente l'arma dei carabinieri al Gran Completo, con il colonnello del Comando Provinciale di Viterbo Gianluca D'Agnello, il capitano della Compagnia di Toscania Massimo Cugno, il comandante della stazione di Montalto Sebastiano Zampone, quello della stazione di pesce Sergio Ferraro e tutti i militari delle locali caserme. Alla cerimonia hanno partecipato anche le associazioni locali, oltre all'amministrazione comunale. A fargli onore di casa è stato ovviamente il sindaco Sergio Caci. Ma adesso ancora una piccola pausa pubblicitaria, a tra poco con lo sport.